Allora, siamo con l'avvocato Giovanni Di Caprio, avvocato esperto di diritto sportivo. Avvocato Di Caprio, possiamo dire che lei ha avuto un piccolo primato, nel senso che ha difeso un giovane calciatore che aveva avuto un comportamento non proprio corretto con il direttore di gara e ovviamente lei ha perdonato la sua causa proprio in un momento in cui c'è stato un inasprimento delle sanzioni. Innanzitutto che cosa è successo tra l'arbitro e il calciatore? È successo che in realtà ci sono state delle condotte da parte del calciatore in violazione di alcune norme del Codice di Giustizia Sportivo, però devo dire che in realtà successivamente all'entrata in vigore della testa aggiornata del Codice di Giustizia Sportivo del 17 maggio, questa partita si era disputata il 21, quindi eravamo già nella nuova normativa dell'inaspimento delle sanzioni. L'articolo 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportivo sono stati modificati e quindi hanno inaspite le sanzioni per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Quindi deve il calciatore ora prestare molta attenzione, per esempio se la prima condotta un po' più leve comportava una squalifica di un anno, oggi comporta due anni. Se l'arbitro si fa rifiertare per lesioni personali addirittura scatta una squalifica di quattro anni. Avvocato, che cosa è successo esattamente nel caso specifico? Nel caso specifico avverso la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto due anni con la nuova normativa, ho fatto reclamo alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, puntando tutto sulla diversa qualificazione giuridica dei fatti, non nell'articolo 35 ma nell'articolo 36 che ha delle sanzioni meno dure rispetto all'articolo 35. Che cosa aveva convesso esattamente il ragazzo? Ma in realtà si era avvicinato all'arbitro toccandolo con un pugnetto per non farsi espellere, insomma parliamo di un giovane, di un minorenne, ma la cosa che il dispositivo poi della Corte Sportiva di Appello e anche a seguito della mia discussione ha messo in evidenza che il tecnico ha accompagnato il giovane calciatore negli spogliatori e il giovane calciatore ha chiesto scusa all'arbitro, tant'è che la Corte Sportiva quindi ha fatto anche un istruttore interno, sentendo a chiarimento i labili, quale ha confermato giustamente il referto, però effettivamente ha detto sì, il ragazzo è venuto dentro con il tecnico a chiedere scusa, quindi questo è un esimente. Riepilogando, in primo momento che cosa aveva avuto come sanzione? Come sanzione aveva avuto addirittura con la nuova normativa una squalifica di due anni, che per un giovane calciatore significava interrompere la carriera, parliamo di un ragazzo di 14 anni, quindi anche bravo. Invece il dispositivo di pochi giorni fa della Corte Sportiva d'Appello federale dettoriale, accogliendo le mie tesi che non si trattasse dell'articolo 35 ma dell'articolo 36, quindi di condotte meno violente, ha ridotto la sanzione a 8 giornate di squalifica, da poi giustamente scontare nel prossimo campionato, con un buon risultato perché giustamente prima erano due anni, ora sono 8 giornate di campionato.